Iscriviti al canale e attiva la campanella per restare sempre aggiornato. Oggi, Edoardo e Antonella hanno litigato furiosamente. Ad accendere la miccia è stato il geffino che parlando con Carolina le ha detto i mi fai arrapare. Una battuta fatta davanti ad Antonella che giustamente si è arrabbiata. Edoardo Donnamari ha provato a giustificarsi, sostenendo che fosse una battuta ingenua. Era una battuta. L'ho fatta pure davanti a te. Non me ne frega niente. Tu certe battute non devi neanche farle. Pensa se io avessi detto, o Antonino mi fai arrapare. Ti sarebbe andato bene, ribatte Antonella. Una battuta oggettivamente uscita male, che Antonella ha colto al volo per scagliarsi contro Edoardo. E meno male sei un pariolino, pensa se fossi stato un boro. Se io faccio una battuta ad un uomo mi fanno passare per poco di buono. Tu dici quella cosa a Carolina e passi per il simpatico che fa le battute? Non ci sto. A cercare di buttare acqua sul fuoco è stata Gaele, Antonella tranquilla. È una frase che ha detto davanti a te, solo per farti ingelosire, mentre Luca Salatino ha dato ragione alla Fiordelisi. Io non avrei mai detto una cosa del genere. Hai fatto bene ad arrabbiarti. I donnalisi sono già arrivati al capolinea. Grazie per la visione. Ciao.